Ancora una volta a Barcellona, protagonista è l'emergenza rifiuti. Questa volta il grido di allarme si alza dai residenti in via Stretto Terzo Fondaco Nuovo, letteralmente sequestrati in casa dall'immondizia. Per chi si appresta a fare una passeggiata per la strada cittadina, lo scenario è veramente avvilente. Montagne e montagne di spazzatura ovunque, lungo la strada, negli spiazzi, persino dietro le porte d'ingresso di alcune abitazioni private. Rifiuti di ogni genere e tipo, sacchini indifferenziata, mobili dismessi, materiale edile di scarto, carta, oggetti di plastica, cumuli di rifiuti indifferenziati e abbandonati senza nessun decoro, in barba anche alle severe normative in tema di raccolta e smaltimento. A rincarare la dose, quindi, oltre alle difficoltà ormai palesi delle istituzioni barcelonesi e della ditta d'asti, nel gestire al meglio il servizio di raccolta nel comune, anche i comportamenti incivili di alcuni cittadini, che proprio non vogliono saperne di adeguarsi alle regole sul conferimento e al relativo calendario e al rispetto del decoro urbano e della salute pubblica. E a complicare il tutto, ci sono anche le alte temperature di questi giorni e dei prossimi, stando alle previsioni meteo. Si attende che l'amministrazione prenda provvedimenti immediati per liberare la zona dall'immondizia e che a fronte di tanta inciviltà si intensifichino le attività di controllo e sanzionamento per coloro che non hanno rispetto nemmeno per i propri concittadini.